Biosphere Studio nasce durante la pandemia ed è un progetto documentaristico che parte dall'esigenza di mostrare i luoghi nascosti della Sicilia. L'isola ha i più alti indici di biodiversità del Mediterraneo e rappresenta un unicum di eterogeneità ambientale. L'idea è spinta dalla volontà di sensibilizzare il pubblico sulla conservazione degli ultimi relitti di habitat naturale rimasti sfuggiti agli occhi indiscreti dell'uomo. In questi luoghi difficilmente accessibili si trovano ancora specie a rischio di estinzione che lottano ogni giorno per la sopravvivenza. A anni di esplorazione del territorio ci hanno convinto che oggi più che mai sia opportuno mostrare alla gente questa realtà e i processi che ne stanno determinando la scomparsa. Vista l'inefficacia degli organi preposti al controllo e alla gestione del territorio, Biosphere Studio si pone come obiettivo di mettere in luce le enormi ricchezze naturalistiche che rischiamo di perdere, sensibilizzando l'opinione pubblica su quelle che sono le situazioni dell'uomo che mettono a repentaglio i delicati equilibri ecosistemici. Grazie per la visione! Grazie! Grazie a tutti.